Dopo i test in Calabria e in Emilia Romagna a maggio si voterà in parecchie regioni. È importante per comprendere fino a che punto il centrodestra può vincere, può mettere in crisi il governo, vedere gli equilibri all'interno del centrodestra e vedere anche il centrosinistra come possa reggere. Si vota in Valle d'Aosta, si vota in Veneto, in Veneto vedo scontata la vittoria di Zaia, vincerà con uno scarto enorme, molto considerevole. In Liguria la situazione è un po' particolare perché tutti, anche all'interno del centrodestra, non è tanto amato, Forza Italia si sente tradita. Prevedo però che in Liguria possa ancora confermarsi il centrodestra. La Toscana la vedo a pannaggio del centrosinistra con il candidato, l'attuale presidente del Consiglio regionale Gianni. La Toscana sarà un po' come l'Emilia Romagna. Poi consideriamo altre regioni, le Marche, che sono state sempre una terra rossa. Ora dai sondaggi vedono il centrodestra in vantaggio, addirittura con un 41%. Scendiamo e abbiamo la questione Campania. Anche qui è un bel punto interrogativo perché da un lato c'è De Luca che vuole la riconferma, ma il centrosinistra, una parte del PD magari preferirebbe legarsi al ministro Costa del Movimento 5 Stelle. Ma si sa, Movimento 5 Stelle e centrosinistra andranno separati. I 5 Stelle hanno capito che correndo con il PD perdono quella loro caratteristica, come dire, antisistema. E poi c'è la Puglia, vedo molto favorito Michele Emiliano, davvero sta facendo un'armata a Branca Leone, sta imbarcando di tutto, sta imbarcando mezzo centrodestra e per questo vedo favorito Emiliano, anche perché la ricandidatura di Fitto è una ricandidatura zoppa, perdente. Chi vivrà vedrà. Vedremo la Lega cosa farà. Certamente si creeranno nuovi equilibri all'interno del centrodestra con Meloni, con Fratelli d'Italia che avanza, ma tanto state tranquilli, qualunque cosa accada il governo andrà avanti perché PD e 5 Stelle sono troppo attaccati alle poltrone per alzarsi e andarsene.